Nel mondo pieno di ostacoli, la vita è diventata una sfida Crisi, conflitti, difficoltà economiche, l'indifferenza umana, non cessa di bruciare Le criptovalute sono ancora un'opportunità per pochi La diffidenza soffoca il desiderio, senza orientamento i sogni restano schiacciati Bitcoin è libertà, trasparente e anonimo, come l'aria Intangibile ma inestimabile, è la libertà da respirare Puoi iniziare a vivere Bitcoin, senza investire Nessuna competenza necessaria, è il momento giusto per iniziare Cryptex dal 2017, genera ricchezza senza fosa La distribuisce, chi la conosce comprende questa vera cosa Decidi tu, il tempo è zero investimenti Tutto scorre in automatico, senza menzogne cruente Bitcoin è libertà, criptex della consegna, accumula bitcoin È il momento di cogliere l'opportunità, criptex è libertà Scommetti 100 dollari per vivere il sogno della tua vita Decidi tu, sentiti libero, non è un investimento È solo un costo, un portale con nuova libertà di vita Decidi il tempo, migliaia o centinaia di migliaia possono diventare tuoi Apri il portale con 100 dollari, è un segreto tra noi È solo una scommessa Non è mai troppo tardi, ora che sai che criptex è qui Ti svela il suo messaggio Stay in the fire, in totale anonimato Come criptex, sei nascosto all'orizzonte Non puoi infrangere questa regola È il tuo segreto, il tuo monte Scopri criptex, comprendi la sua essenza Ascolta con attenzione la nostra presentazione Libertà solo questa conta La possibilità di viverla è una gran tentazione Ascolta il cuore di criptex Che batte nella blockchain di Bitcoin Bitcoin Nessuna menzogna Nessuna illusione È tutto reale Il battito è fedele Oh yeah Nessuna illusione Sei libero Libero di far scintillare la tua stella Abbraccia la rivoluzione Migliora la tua vita in sella Cryptex è libertà Cavalcala con successo Inizia adesso Oh yeah Cavalcala con successo Inizia adesso Conta il cuore di criptex Inizia adesso 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 Inizia adesso